Solo poche ore ancora al Festival dell'Aspide 2017, siamo a Rocca d'Aspide, alle nostre spalle i bambini che hanno contribuito alla realizzazione delle scenografie che andranno a costituire un vero e proprio museo a cielo aperto per le strade di Rocca d'Aspide. Ci sarà tantissimo da vedere, ne parliamo con Michele Lettieri, coordinatore di questo evento. Sì, siamo pronti, siamo quasi pronti, stiamo ultimando gli ultimi aspetti della scenografia, dobbiamo sistemare qualche altra cosa ma sostanzialmente siamo pronti. Inizieremo venerdì sera con un concerto tributo ad Elvis Presley al quale può essere tutto imputato per quanto riguarda poi la musica moderna e dal quale tutto ha origine. Dopodiché avremo Sergio Caputo, una chicca che sarà scelta dai nostri amici organizzatori e chiuderemo con le sonorità rock del Muro del Canto. Il venerdì sera avremo un'intera serata dedicata alla musica reggae, Pier Vito Grisù, Giobba, Jutman e i cricca reggae con la DJ set a cura di DJ rock and roll, sempre strutturata sulla musica reggae. E la domenica l'hip hop, l'hip hop che chiuderemo la serata con Clementino, qui veramente non c'è bisogno di aggiungere altro. Ma durante le tre sere avremo tanta musica popolare, si venga suonamo, avremo i Nova Felix, ritornano i musici, i nostri amici di Salerno e la compagnia d'altro canto. Avremo tantissimi artisti di strada, quindi la musica senegalese, la musica africana, avremo la musica balcanica della banda del Bucò, avremo i nostri amici musicisti e ballerini della murga di Battipaglia, avremo blues, avremo un tributo proprio su questa piazza a cura di Carmine Pinto dedicato a Tony Tammaro. Quindi c'è da divertirsi, c'è da scegliere soltanto il genere musicale, da scegliere la taverna, da scegliere il piatto che più ci piace, un bel bicchiere di vino e tanta allegria. Festival dell'Aspide 11, 12 e 13 agosto, venerdì, sabato e domenica. E non mancherà davvero nulla al Festival dell'Aspide 2017 che oramai è un evento consolidatissimo, tant'è che ci sarà anche un'area campeggio ad accesso completamente gratuito. Sì, avremo un'area campeggio e un'area camper. L'area campeggio quest'anno cambia sede, non sarà più nel centro del paese, ma sarà nei Castagneti di Roccanaspide, quindi un posto ancora più bello, più suggestivo, fresco, visto le temperature che abbiamo in questi giorni. Abbiamo indicato anche sulle nostre pagine Facebook l'indirizzo da inserire nel navigatore per raggiungerlo e avremo l'accesso completamente gratuito, munito di servizi, di docce, di bagni, per cui sarà un luogo molto ospitale anche il campeggio quest'anno. Non ci resta che venire al Festival dell'Aspide! Fidel! 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 Grazie a tutti